Oltre 30 km tra degrado, rifiuti e roghi. E' questo il biglietto da visita della strada provinciale 335, ex statale 265 Ponti della Valle. L'asseviario infatti unisce i comuni dell'area giulianese della provincia di Napoli con quelli del Basso Casertano. Una strada aperta oltre 20 anni fa, dove non è possibile sostare nelle piazzole. Sono diventate delle mini discariche di rifiuti a cielo aperto, per non parlare poi del costante superamento dei limiti di velocità. Il limite massimo è di 90 km orari. Una lunga striscia d'asfalto dove vengono trasportati carichi illegali, come droga o rifiuti speciali. Pochi controlli e numerosi incidenti, spesso mortali, nella strada dei Ponti della Valle. Tra i piani di ammodernamento e sicurezza sono previste opere per l'installazione di 14 stazioni di videosorveglianza a ridosso dell'area industriale di Marcianise, ma anche nelle aree extraurbane del comprensorio Aversano, in prossimità degli svincoli. Ci saranno antenne ed apparati radio collegati con la centrale operativa della provincia di Caserta. L'obiettivo è quello di garantire la sicurezza degli automobilisti e di contrastare gli sversamenti illeciti e i roghi di rifiuti.